Da domani, venerdì 24 aprile, in Toscana, ristoranti e locali che somministrano alimenti potranno vendere cibo da asporto. Lo dispone l'ordinanza firmata dal presidente Enrico Rossi, la numero 41. La vendita da asporto, che potranno effettuare tutti i ristoranti e locali, anche artigianali, dovrà essere effettuata previa ordinazione online o telefonica. I locali che vendono il cibo dovranno garantire che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano solo per appuntamento e dilazionati nel tempo. Questo per evitare sia assembramenti all'esterno, sia all'interno del locale, dove sarà consentita la presenza di un cliente alla volta. Ogni cliente, inoltre, dovrà permanere all'interno del locale il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento dei prodotti. Resta invece sospesa per i ristoranti ogni forma di consumo sul posto. L'ordinanza numero 41 torna a confermare la possibilità di vendita di semi, piante, fiori ornamentali e piante in vaso, anche negli esercizi commerciali specializzati. Così come conferma la possibilità di vendere calzature per bambini, sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento, che in quelli che commercializzano esclusivamente scarpe per bambini.